Prima trasferta stagionale per l'Olimpia, domani è in programma un classico del girone F, Recanatese e Agnonese. Al pari dei padroni di casa, infatti, quella al Tomolisano è la squadra con più esperienza del raggruppamento F. La formazione di mister Giampaolo è reduce dalla vittoria di misura in casa della Jesina, dunque domani farà il suo debutto davanti ai propri tifosi in una gara che si prospetta interessante. Al contrario, i Granata nella prima uscita ufficiale di campionato hanno rimediato una sconfitta contro il Monte Giorgio, risultato che ha permesso alla squadra di lavorare in vista del secondo impegno con la giusta grinta per conquistare i primi tre punti. Importanti per la classifica, sì, perché iniziare con il piede giusto è un ottimo segnale, ma fondamentali per l'umore e per l'ambiente. Mauro Marinelli potrà contare sull'argentino a costa, al centro dell'attacco. Il classe 90 si è allenato regolarmente con la squadra e guiderà il settore offensivo Granata. Con lui a completare il tridente, Percovic e Minacori. Tra i pali confermato, Mejiri, difesa composta da Diachite, Allegra, Frabotta e Colonna. A loro il compito di contenere quanto più possibile gli attacchi di Pera, Borrelli e Soci. Quella giallorossa è una delle linee offensive più esperte del raggruppamento. Per quel che riguarda il centrocampo, la documentazione relativa al suo testiramento è stata completata. Dunque Viscovic potrebbe esordire proprio domani. Al suo fianco, Carlucci e Peic. Come detto, Granata scenderanno in campo con un solo obiettivo, fare bottino pieno. Con fischio d'inizio alle 15, al Tubaldi, Re Canatese e Agnonese sarà diretta dal signor Guido Verrocchi della sezione di Sulmona, assistito da Alessandro Rastelli di Ossalido e Matteo Siracusano di Sulmona. Grazie a tutti.